...consultazione di cronometri, Moore avanti per segnare l'arbitro, un'altra falla per Hertz, ultimi minuti di entusiasmo, Hertz, trete, quattro a due per l'Inghilterra, ha segnato Hertz. ...lo stadio in delirio, agitare di bandiere, canti e animo vibrante in tutti con la fine. L'Inghilterra ha battuto la Germania per quattro a due, vincendo l'ottava edizione della Coppa Rimini.